Convegno sulla rendicontazione sociale, nuova pratica delle città metropolitane nelle politiche urbane 2014-2020 a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli. L'incontro ha lo scopo di comunicare e valutare gli impatti delle scelte politiche e gestionali all'interno della comunità, oltre che determinare la coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato. A tale proposito si è discusso su come mettere in luce le nuove pratiche delle città metropolitane nelle politiche urbane e le innovazioni del progetto sperimentale dell'assessorato alle attività produttive del Comune di Napoli. Ma ascoltiamo a tal proposito l'assessore alle risorse europee della Regione Campania, cooperazione e politiche giovanili Serena Angeli. Il percorso della rendicontazione sociale implica un livello culturale adeguato di sistema, di processo, implica una politica di informazione e di partecipazione importante, significativa, che al momento attuale non penso sia già sul campo. Per cui stiamo lavorando anche in vista di come utilizzare le risorse disponibili per il nuovo programma. Ora siamo in un passaggio tra la vecchia programmazione e il nuovo. Un ruolo importantissimo sul tema della rendicontazione sociale è sicuramente affidato ai comuni. Per poter arrivare a un bilancio sociale, all'applicazione del bilancio sociale, occorrerebbe che il bilancio sia anche costruito in modo che si possano riscontrare delle maggiori forme di condivisione e di partecipazione. Per cui in tutte le fasi ci vorrebbe avere magari anche a corredo funzionale una politica di informazione più ampia, più capillare, più responsabile.